Qual è il servizio di Valenza? Noi facciamo del servizio uno stile di vita, quindi per noi è importante prendere tutte le occasioni che troviamo, fare in modo di lasciare un segno della nostra presenza, di lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato, come diceva il nostro fondatore, quindi siamo sempre felici di accogliere le proposte di servizio che ci vengono fatte. Sì, anche la condivisione è un valore importante perché se c'è qualcuno in difficoltà, perché non aiutarlo? Un servizio è anche aiutare chi è in difficoltà. Il volontariato, comunque al di là dello scoutismo, è sempre un modo per sentirsi utili a qualcuno, anche per qualcuno che ci è vicino e non sappiamo cosa fare, possiamo sentirci utili in qualche modo facendo del volontariato, così come far parte di un gruppo scout è anche un modo per sentire, migliorare la propria vita, per avere un qualcosa in cui credere, soprattutto nei tempi in cui ci si sente magari persi, ci si sente sfidugiosi nel futuro, anche perché in Italia, per esempio, economicamente vediamo che non c'è lavoro, non c'è possibilità magari di trovare un impiego una volta finita la scuola, possiamo comunque direzionare le nostre risorse su qualcosa che è più fattibile al momento, per esempio il servizio verso gli altri ed essere comunque delle persone migliori quando diventiamo grandi. Grazie. Grazie.